Vorrei che voi fate un bell'applauso a questi ragazzi, perché sono bravissimi. Veramente. Un applauso a Pavelessandro Paredne, perché sono... Non so quanti anni... Pavelessandro! Bravo! Che dedica la vita a questo strumento popolare che fa parte della nostra storia e che oggi viene suonato anche in maniera diversa e lui ha cresciuto un bel po' di gravissimi solisti di questo strumento. E quindi... Bravo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!